E' intelligente, non puoi sapere se non puoi sapere i punti qua, invece di Sant'Agatissi forse il settembre di domenica deve stare qui, non puoi sapere la partita fa e non scendere mai mai, non puoi sapere mai la mente non puoi sapere la partita senza non puoi sapere la partita Sì, è vero. Sì, sì, sì. alberto a luca fuori cos'è? no, a gansari che non puoi dire tu c'è puoi dire tu c'è qua l'amba lui questo ho vedi che è il suo nome ho vedi lo signorca si non più gioco e le giorni non vedo vai sempre qua tutti i San Marcos tranne due tranne due ma c'è la soddisfazione si 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 Grazie a tutti. ma quando salta il bubbencio i panuli li li ha dei miei piatti infatti giochissero giusto ma qui no no scusa di giochino sa qui però mi sei sciolta una parte la maniera del mio non c'è da me nella borsa non c'è problema ciao, non ce l'hai fatto? non c'è problema non mi sono? non c'è problema 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 oh Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.